Banche e prefettura contro l'usura. Tempi certi per le risposte per l'erogazione del credito e connessione con l'osservatorio contro l'usura del Palazzo di Governo, per i piccoli imprenditori e i professionisti che rischiano di cadere nella rete degli usurai. Questi alcuni degli aspetti peculiari del protocollo d'intesa firmato dal prefetto Andrea De Martino, dal direttore della filiale di Napoli della Banca d'Italia Giuseppe Buccuzzi, dal presidente della commissione regionale ABI Giuseppe Castagna e dai rappresentanti di 21 istituti bancari. In un periodo di crisi economica come quello attuale il livello di guardia verso questo fenomeno deve essere sempre maggiore, ne è convinto il prefetto Andrea De Martino. Il 23% circa delle famiglie, secondo dati recenti dell'Istat, è sotto la soglia di povertà e allora in questa logica ovviamente un'attenzione speciale rispetto a quella che normalmente da sempre viene dedicata al rischio e usura è proprio consistita nell'adozione di un accordo con tutte le banche, che dico tutte che operano nel nostro territorio per consentire a chi si trova in situazioni di difficoltà un canale privilegiato e tempi certi. La prefettura farà quindi da collante tra le banche e l'osservatorio contro l'usura e ci si potrà rivolgere all'ufficio di governo anche in caso un istituto di credito non tenga fede al protocollo firmato. Ascoltiamo ai nostri microfoni Giuseppe Castagna, presidente della commissione regionale ABI. Durante tutto l'anno in Campania sono aumentate parecchio anche le erogazioni nei confronti delle piccole e medie imprese. Devo dire che l'ultimo trimestre invece registra una situazione più critica, non tanto per la mancanza di incremento di richieste, dall'altra parte gli investimenti sono fermi, quindi si tratta solo di domande o per ristrutturazione o per circolante, però oggettivamente a questo si aggiunge una crisi di liquidità anche da parte delle banche che ha un po' diminuito il tasso di erogazione.